Con uno stile unico che lo contraddistingue tra gli artisti, questo giovane cantante si sta già facendo strada nel campo musicale italiano. Stiamo parlando di Blanco e con questo quiz scopriremo quanto ne sapete di lui e se davvero potete considerarvi suoi fan. Prima di iniziare vi ricordo che questo è Melting Top e che potete sostenerci con un mi piace e iscrivendovi al canale. E ovviamente fateci sapere nei commenti come ve la siete cavata. Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.